La Corte dei Conti ha confermato il decreto di autorizzazione di sequestro conservativo di beni e crediti emesso nei confronti di 15 tra amministratori e dirigenti pubblici responsabili del danno all'erario di oltre 32 milioni di euro per i doppi pagamenti dell'Asla Napoli 1 Centro. L'indagine aveva consentito alla Guardia di Finanza di Napoli di accertare l'assenza di una valida struttura contabile, tale da non permettere di rilevare i doppi pagamenti effettuati ai propri fornitori. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle si erano concentrati sul decennio 2000-2012 ed hanno permesso di rilevare come l'ente, nonostante pagasse regolarmente alla scadenza le prestazioni e i servizi fruiti, non fosse però in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento. Tra i 15 destinatari del provvedimento di sequestro spicca l'ex amministratore delegato dell'Asla Angelo Montemarano, poi assessore alla Sanità della Giunta Bassolino in Regione Campania.